Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Lo so, è da tantissimo che non faccio un video, praticamente da Natale, ma potete capire bene che questi sono dei mesi veramente assurdi, in cui mi sta succedendo davvero di tutto e questo video è un po' un riassunto dei mesi che sto passando, che stiamo passando anzi con il mio ragazzo per poi arrivare finalmente al matrimonio che sarà breve e quindi veramente tutto. Tra casa e tante altre cose sono successe, sono un po' sbagliata e mi dispiace e vi chiedo scusa. Vi faccio vedere quello che è successo un po' in questi mesi, è arrivata una piccola cucciola a casa che si chiama Mia, chi mi segue su Instagram forse l'ha già vista ed è un hamstaff bellissimo che adesso ha ormai 5 mesi e veramente mi toglie tantissimo tempo e tantissima energia. Mia è arrivata a dicembre, prima ancora del Natale, il 19 è stato un regolo di Natale, il 3 gennaio c'è stata la nostra promessa di matrimonio e abbiamo festeggiato appunto questo primo piccolo traguardo. E poi vi faccio vedere un po' i lavori nella casa che vanno avanti, anche se queste riprese sono state fatte tipo verso gennaio, quindi adesso siamo parecchio avanti, sono arrivati anche i mobili. Ovviamente non vi mostro niente adesso perché poi vi mostrerò tutto in un home tour, se vi fa piacere. E quindi niente, la casa è andata avanti e abbiamo messo pavimenti nuovi in cucina, abbiamo sistemato il giardino e vi mostro un po' le foto e i video del prima e del dopo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Per ore, spero quanto rima di poter tornare, magari adesso fate passare insomma a aprile, che sarà il mese del matrimonio, che ovviamente sarà veramente un macello. Cercherò di fare di tutto per pubblicare qualche video, però non me ne vogliate se purtroppo sono assente sia da YouTube sia dai social, però veramente è un periodo tremendo. Vi mando un grosso bacio, spero che questo video aggiornamenti vi sia piaciuto e ci vediamo non so quando in un prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.